Salve, sono Anna Maria e faccio parte del gruppo La Voce della Disorsa insieme a Maria Angela, Maria Rosaria, Salvatore, Gianluca e Michele. Il nostro gruppo si occupa, si vuole occupare in realtà di cercare di trasformare quello che si spreca nelle cucine, delle famiglie o anche di ristoranti, in risorse, in qualcosa per aiutare. La nostra idea di futuro è cambiare la mentalità della gente, perché per forse che noi viviamo in una maniera migliore.